Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Che attualmente guarda gli indie, perché è un gioco profondissimo, è uno di quei giochi che potrebbe prendermi molto di più in quanto faccia qualsiasi tipo di gioco AAA, di qualsiasi tipo di indie di tendenza, perché è un gioco veramente che lascia una libertà pazzesca, ma è un gioco tremendamente difficile, che dà un'immensa soddisfazione e dà spesso la voglia di cancellare la partita e ricominciare. È un gioco iperaggiornato, dove interpreteremo un avventuriero spaziale. Il gioco ha anche un ampio manuale di guida, diciamo, su tutte le operazioni che si possono fare in gioco. Ma ve lo faccio vedere perché se non avete visto il video vecchio, questo è una novità, se l'avete già visto, beh, vi voglio aggiornare. Potete creare le vostre navi, ma ve lo faccio vedere velocemente, molto velocemente, perché è molto possibile, è molto probabile che moriremo malissimo, perché le variabili sono veramente tante ed è un gioco, lo dico subito, avrei dovuto dirlo prima, solo in inglese. Non è in inglese difficile, calcolando che comunque il gioco va in automatico, in pausa, durante i dialoghi, durante tutti gli eventi, però continuo a sostenere che sia per il solo 5% delle persone. Non tradurrò nulla o quasi della storia, perché in pratica noi scriveremo la pagina della nostra vita prima di iniziare l'avventura. Potremmo decidere di iniziare a giocare da giovani, giovanissimi, oppure da adulti un pochino più anziani. Perché? Perché andremo a scegliere, adesso ve lo faccio vedere, quali eventi affrontare prima di imbarcarci con la nostra nave personale. È un gioco dove, vabbè, qua, indiscutibile. Bene, scegliamo il nostro personaggio, adesso io lo scelgo a caso, giusto per voi. Questo qui, lo chiamiamo Indie, questa è la nostra carta di identità. Vabbè, non modifico niente, lo lascio così com'è. Fatto. Ora, qua si aggiornerà, vedete che è Justin Marsh, ma si aggiornerà, abbiamo 18 anni e praticamente abbiamo questi attributi. Ora, possiamo fare queste cose. Cercare avventure, lavorare sulle nostre abilità, sui nostri tratti, oppure risparmere un po' di soldi. Io lavoro sulle mie abilità e inizio a fare electrical engineering. Ho perso 3 anni di vita, perché comunque ho 21 anni, ho guadagnato quella skill. Posso continuare, vado su persuasion, poi cerco avventura e vado smuggle nel black market, nel mercato nero. E vedete che ogni volta si aggiungono dei contatti che sono diventati i nostri amici o nuovi nemici. All'inizio ci diceva anche quali erano i nostri genitori, ma non ho guardato. Comunque, ho fatto questo, siamo arrivati a 23 anni, continuo a lavorare sulle mie skill, ho fatto persuasione e va su it. Ok, 26 anni, lavoro sui tratti, voglio farmi un genio. 29 anni, cerco ancora avventure, posso hackerare un motore, un nuovo contatto, insomma dovremmo leggere. Poi, se mai ci sarà magari un sistema di traduzione automatica o di qualcuno che tradurrà il gioco, sarà fighissimo. Risparmio, no, sick adventure, no, hack the lock. Continuo, risparmio un po' di soldi, vedete che ho risparmiato tantissimo, quindi ho fatto quello che risparmia. A volte compare anche la possibilità di scegliarsi un secondo lavoro. Invest, instigate violence, mi sono fatto un nuovo nemico, Paul Orson. E risparmio ancora un po' di soldi, è ok, e ho 34 anni. Lavoro ancora magari una volta, faccio Ahmed Medea Psychology. Ok, ora, a 35 anni, risparmio ancora un po' di soldi, ho 36 anni, posso cercare una nave. La nave, tra l'altro, la potete anche rubare nel corso di queste avventure perché c'è l'evento poker dove potete rubarla o vincerla. Comunque, questa è la mia nave, mi dice che, vabbè, siamo doccati nella stazione iniziale, mi costerà 788 mila e pagheremo ogni errata di 2126. Non so come le pagheremo, però questa è la nave, prendola, oppure possiamo rifiutare e andare avanti. Però mi sembra una bella nave, quindi andiamo. Iniziamo la nostra avventura. Il gioco è veramente profondo, ma anche complesso, ed è infatti utile che qualcuno ve lo spieghi, non sono io la persona ideale mia. Io mi sono basato su un video, comunque ci ho giocato, poi ho guardato anche un video che alla fine ha chiarito alcune cose delle feature che stavo già approfondendo per conto mio. Però l'utilità è quella di andare a vedere qualcuno che lo gioca, in modo da dire, ok, cestino la mia partita e facciamo di nuovo da zero. Allora, abbiamo, vabbè, il gioco ha questo menu laterale che ci consente di vedere i nostri obiettivi, il roster perché è possibile reclutare membri dell'equipaggio e impostargli l'orario come si fanno in tutti i giochi gestionali. Abbiamo il jigs che non so cosa sia, abbiamo i task, quindi i compiti da dare alla crew, la visione power, diciamo, della nave, perché si può andare, vedete, in build, andare a montare vari equipaggiamenti, vari circuiti, varie linee elettriche, ma questo va bene. Cliccando con il tasto destro, vedete, potete shiftare tra, noi siamo qua, cliccando su un punto, noi muoviamo il nostro personaggio, adesso io tolgo la power, vedete che cammina. Cliccando col destro, invece, andiamo a interagire o col pavimento o con lo switch. In questo caso faccio lo switch, tolgo il power, oppure premo 1 e accendo. Ok, questa è la nostra stanza. Abbiamo col tasto I l'inventario, l'inventario ci mostra cosa abbiamo addosso, cosa c'è per terra e quello che c'è per terra è quello che c'è intorno a noi. Infatti vedete che se io mi sposto, vedo che si allontana, perché adesso li vedo sopra, perché noi siamo qui e dietro di noi c'è la tuta, che equipaggiamo subito, la scarpa a destra, la scarpa a sinistra, quello che abbiamo in tasca che sono, scusate, queste sono sigarette, poi continuiamo e andiamo nel rack, clicco col destro, vedete, finché seleziono rack che diventa giallo, premo 1 e vado a vedere che all'interno c'è una pressure suit, un elmetto pressure suit e uno zaino che equipaggio subito. E nello zaino, vedete, si apre qui e prendo e metto questo. Ora, abbiamo anche una toolbox, la toolbox, cliccando su Inventory, vediamo quello che c'è all'interno. E all'interno ci sono questi oggetti, quindi sono dei kit di saldatura, ok, una sega credo e un cacciavite, ok, prendo e metto in mano, perfetto. Altro non credo ci sia adesso, quindi noi possiamo finalmente uscire dalla nostra nave, dalla nostra, scusate, stanza, perché si parte da qui. Qui veniamo introdotti alla Keyleg, la stazione spaziale, e qui ci sono altre persone. Io in una precedente partita avevo una moglie, un'ex moglie, l'ho incontrata qui, ho cercato di reclutarla ma non l'ha voluto. Allora, vedete che qui c'è una sorta di tutorial che ci dice install, quindi io posso cliccare col destro su questo, lo seleziono e faccio install. E mi dice installarlo qui, quindi lo installo lì, vedete che lui prende, va, e se abbiamo gli oggetti addosso, giusti per farli, infatti il kit da saldatura, così li abbiamo appena raccolti, andiamo a saldarlo. Inoltre, vedete che la barra blu scende, ma se noi sospendiamo il lavoro quella rimane così com'è. E la velocità è determinata appunto dalle nostre abilità di ingegneria meccanica piuttosto che elettronica. Ora abbiamo riparatola, vedete che la porta torna in funzione, quindi noi possiamo entrare. Entrare qui, tra l'altro, io credo, vedete che qua dentro non si vede nulla, e questa cosa l'ho presa. Se andiamo a vedere sulla pressure suite, noi premiamo col destro, la selezioniamo, facciamo inventory, e vedete che abbiamo una lampada, quindi io metto via il mio pad e prendo in mano la lampada. Quindi ora con la lampada, tecnicamente, dovrei poter illuminare toggle power, e vedete che illumino. Abbiamo un rack, che vado a fare inventario, e trovo all'interno altre cose che io vado a mettere via. Un coltello tattico, che mi sarà molto utile in caso di attacco, e un saldatore, insomma un'altra cosa. Vediamo se c'è qualcosa anche qui. No, direi che uno per terre è tutto questo. Va bene, il gioco ci ha messo un po' alla prova così. Comunque, ora andiamo nella camera di equilibrio. Ah, tra l'altro, va bene, intanto andiamo sempre verso l'airlock. Qua ci sono questi negozi, questi chioschi. Qua ci sono un sacco di persone, magari qui potremmo trovare qualcuno che è diventato nostro nemico nel corso dell'avventura. Abbiamo delle supplies e dei negozi. Io clicco su supplies, e faccio uno trade. E posso andare ad acquistare cose varie, tra pezzi di ricambio, piuttosto che cose da lavoro. Io adesso mi compro un piede di porco, che può essere utile per aprire. Tutto questo l'ho imparato poi guardando altre giocare. Oxygen can o due battle, come nuova, potrei comprarla, perché potrebbe essermi utile. E potremmo prendere anche, ci sono delle parti di ricambio per poter riparare il, questo, per poter riparare roba. Io spendo e compro tutto. Quindi tecnicamente dovrei già avere tutto. Sì, infatti ho già preso tutto. Comunque, era per farvi vedere un pochino il commercio. Le conversazioni invece avvengono a turno. Quindi noi possiamo scegliere quello che possiamo dire al personaggio, andando a scegliere in base all'umore che abbiamo noi, l'umore che hanno loro. Io ora sono leggermente a un po' di dolore, probabilmente perché mi sono fatto male applicandola, riparando quella cosa prima. Camera di equilibrio pronta. Possiamo entrare sulla nave. È questa la camera di equilibrio. Vedete, si chiude, equilibra. Tra l'altro, noi premendo il tasto X possiamo andare, cioè premendolo una volta, insomma ci fa vedere lo status delle cose. E quello che ci dice qui il tutorial è, ripristina la stazione qui di Navigation Console, perché non è emessa benissimo. Io posso cliccarla, scegliere Navstation e fare Restore. E quindi andare a ripararla e riportarla a nuovo. Adesso vedete che è tutta bianca. Il pavimento è un altro discorso, perché si sta rompendo anche quello, però vabbè. Premendo G invece c'è la possibilità di vedere, cosa che non mostra, se non quando le condizioni sono critiche, il livello di pressione di N2, l'azoto, l'ossigeno e CO2. Vedete che in questo caso non c'è. Ovviamente finirà l'ossigeno, aumenterà l'anidride carbonica, così come anche quando indosserete la tuta a pressione, non ha delle bombole e quindi voi respirerete bene con l'ossigeno della tuta, ma riempirete la maschera di anidride carbonica. Infatti io la indosso, vedete che compare questa grafica qui intorno e lampeggerà ossigeno low e CO2 alta. Quindi torneremo qui, toglieremo la maschera e poi la rimetteremo in modo da cambiarla, in attesa di avere poi una bombola. Qua ogni cosa della nave ha un suo perché. C'è la pompa, posso andare e consultare e posso addirittura andare a smontare il pannello e ricablarla in un altro modo. Ci sono degli allarmi, in pratica l'ossigeno dovrebbe essere connesso, l'allarme dell'ossigeno è connesso a quello che poi butta fuori l'ossigeno sulla nave. Quindi quando determinerà il sensore che c'è poco ossigeno, aprirà la bombola e ne buttarà fuori. Ci sono intake, vedete, N2 can, N2 can e così via. Lo switch è per accendere o spegnere, insomma ci sono i traster, c'è di tutto. Io se clicco sulla postazione di pilotaggio, mi compare questa guida che metto via, mi compare dove ci troviamo ora e se vado sull'altro pannello posso andare a selezionare il docking e dirgli di sganciarmi. Ci sganciamo premendo clamp engage e ci siamo sganciati ufficialmente. Ora, la nave non ha dei motori, ci muoviamo solo con l'RCS, praticamente possiamo, disattivo, scusate l'alarme di prossimità, faccio print status e mi dà lo status di tutto, il transponder, il modello, l'antenna, la nav station è attiva, non abbiamo reattori, non abbiamo ilio 3, non abbiamo quest'altro che non so cosa sia. Abbiamo gli RCS, ne abbiamo soltanto due, quindi ci muoveremo lentamente rispetto a navi che magari ne hanno 30. e abbiamo una tot di RCS che sono quelle cose che spruzzano, che si vedevano anche su Kerbal, un supporto in kilowattora di batteria e un po' di ossigeno, un po' di chili di ossigeno. Vediamo che il live support hit, quindi il supporto vitale, il calore e il raffreddamento sono attualmente online. Quindi cosa facciamo a questo punto? A questo punto andiamo a spingere la nave indietro, perché ci siamo appena disattaccati, da un po' di spinta con gli RCS, e poi con Q&A la vado a far ruotare, fino a fermarla, perché ovviamente siamo nello spazio e si continua avanti all'infinito. Ora ci allontaniamo da questa stazione e troveremo una nave in lontananza. Ma vedete che questa nave qui di solito non mi compare mai, questa gialla. È la prima volta che la vedo. È sempre diverso. Tra l'altro ho scoperto, guardando sempre questo tizio che giocava, che c'è la polizia, e senza una licenza voi non potete fare scavenging di altre navi distrutte. Infatti lui l'aveva fatto, questa nave gli è passata vicino, lo ha visto, si sono fermati, però era un po' buggato il dialogo, perché a un certo punto questo poliziotto si è messo a dormire di fronte a lui, e lui l'ha ucciso nel sonno, quindi insomma è andato anche bene, ma non si può. Questo sta scavengiando, probabilmente... Ok, ci proviamo ad avvicinare. Ovviamente ogni inizio è sempre diverso, quindi non so che cosa potrà succedere con quella nave gialla, però io mi appropinco, sperando non sia... No, ma non dice niente, patrol, niente, quindi... Io seleziono, e vedete che ho tutti i dati sulla sua velocità, mi giro, inizio a girarmi, sto però prendendo un po' di... Devo raddrizzarmi perché ho una forza di velocità laterale. Inizio a fermarmi, mi ruoto. Siamo in allarme di prossimità, rallento, tecnicamente adesso dovrei spostarmi leggermente verso questa stazione. Zoom ancora. Stando attento a non finire gli LCS, perché sennò poi finita. Allora, accelero, cercando di controbilanciare questa forza laterale. Ok, dovrei aver fatto. Mi spingo avanti e poi passeremo all'aggancio, al docking. Una volta, appunto, questo tizio qui ha avuto la polizia, a me invece è successo di essere aggredito dai pirati. Insomma, è un inizio dove noi non abbiamo niente, anche perdendoci le ore dietro l'inizio, credo che sia un... comunque partiamo sempre da abbastanza poveri. Disattivo l'arame di prossimità. Io passo questa modalità, vedo che ho il docking, faccio docking, accetto, e vedete che davanti a me vedo, questo è semplificato, vedo la porta di docking, vedo anche la velocità relativa e la distanza, i secondi che ci mettiamo. Io ora inizio a bilanciare il movimento. Rallento, perché siamo veramente troppo veloci. Arrivare a 60 metri al secondo non è il massimo. Esploderemo noi. Allora, adesso io mi metto bene bene al centro, non riesco a bilanciare però, 33 secondi, 30 secondi e 30 metri al secondo. Ok, mi stoppo, non riesco a fermarmi, mannaggia. ok, 29 secondi, accelero un filo, siamo abbastanza giusti, 9 secondi, 8 secondi, 5, accelero ancora un po', diminuisco, finché diventa verde, non diventa verde in realtà. Ok, siamo allineati, 9 secondi, siamo giusti, allineati, accelero un filo, 3, 12 metri al secondo, allento un po'. Ok, siamo agganciati, devo agganciare, ok, siamo agganciati. Perfetto, siamo agganciati. Bene, ora siamo agganciati alla nave, vediamo intorno, non ci stanno dando fastidio, quindi noi possiamo uscire da questa modalità qui e andare, solo che, vabbè, saltiamo anche questa parte qui, il gioco ci dice che dietro probabilmente, vedete che, compaiono le cose, quindi probabilmente dice il vuoto dello spazio, quindi cosa facciamo noi? Apriamo il nostro inventario, depositiamo, mettiamo, no, il casco non lo metto ancora, butto a terra la tuta, butto a terra le scarpe, metto la tuta e metto anche questo. ok, e andiamo avanti così e vado e siamo su questa nave e possiamo vedere che e possiamo vedere che c'è un cestino e possiamo vedere cosa c'è nel cestino non c'è niente continuiamo, qua c'è parti elettriche che possiamo raccogliere qua c'è qualcosa per terra no, e io potrei aprire questo e vedere cosa c'è nel pavimento trash, ok, spazzatura, ci sono parti elettroniche, parti elettroniche, c'è una pompa ci sono meno 170 gradi fuori la pompa vediamo un po', control panel vediamo cosa dice questa pompa qui è off posso smontarla? no scusate ma se io faccio la pompa e faccio allora un install dismantle e recupero i materiali io un install la posso portare come parte di ricambio quindi è quello che facciamo in questo momento vedo che ci sono altre cose c'è una scheda madre ci sono dei condotti delle porte più avanti insomma questo è la base ovviamente quello che noi stiamo facendo adesso potrebbe andare in mille altri modi potrebbe arrivare la pulizia potrebbe arrivare quell'altra diciamo nave che sta già probabilmente alla licenza per fare scavenging comunque ci stiamo mettendo una vita probabilmente perché non abbiamo gli attrezzi ideali anche perché a un certo punto noi dovremmo anche iniziare a soffrire un pochino di ipercapnia che è quello che stiamo subendo ora e il gioco non fa molto per avvertirci del pericolo oltre a queste cose oltre ai messaggi sotto in basso a destra in questo testo vi troverete magari a dover affrontare il vostro personaggio che cade lungo e tirato per terra e non si riprende più muore partita finita e questo vi farà arrabbiare parecchio quindi ok abbiamo un problema il gioco ci sta dicendo che la nostra il nostro livello di co2 è troppo alto nella maschera ci stiamo avvelenando quindi cosa facciamo andiamo sulla nave prima di finire per terra e togliamo la maschera e torniamo a posto quindi ce la rimettiamo e torniamo all'opera e finiamo il lavoro che stavamo facendo e tutto questo l'ho preso guardando un gameplay quindi insomma bisogna anche essere un minimo motivati a apprendere e imparare il gioco allora canister no io avevo preso qualcosa ma ground turbo air pump e avevo smontato quello loyalty limited edition no questo è un è un sacco in cui c'è dentro roba una stampella sigarette atlantis blue una t-shirt drink pouch no e poi anche il fatto di dover comunque interpretare tutto quello che c'è a schermo lo fa diventare un gioco un po' diciamo di altri tempi questo è quello che abbiamo smontato forse boh comunque andiamo avanti vediamo che c'è una porta access lock c'è un sistema ma non è non c'è energia quindi possiamo tentare di tagliarla facciamo lo scrap e vediamo cosa succede speriamo non ci sia il vuoto dello spazio dietro no meno male è sempre simile no questo è il vuoto dello spazio ok è il vuoto dello spazio però ce l'ho fatta recuperare ok è il vuoto dello spazio quindi noi teliamo perché abbiamo anche vedete sick stomach abbiamo lo stomaco sotto sopra perché siamo stati risucchiati fuori nello spazio aperto e fortunatamente avevamo la tuta insomma ma adesso andiamo a riprenderci perché non ci sentiamo probabilmente tanto bene ok questo è quanto possiamo vedere vediamo l'altra nave dov'è è andata via intanto non c'è l'altra nave no però ci sta tracciando qualcuno scusate adesso io mi sgancio voglio capire cosa sta succedendo perché abbiamo un allarme di tac vado indietro eh sì sta arrivando una nave sta arrivando una nave che è la polizia perfetto sta arrivando una nave che è la polizia infatti adesso sta andando esattamente come avevo visto in quel video e si aggancerà a noi probabilmente adesso sì infatti si è agganciata vediamo di gestircela eccoli che arrivano ok l'uffice l'ufficiale si va a bordo ordina di disarmarsi e presentarsi per l'ispezione mi chiede se so perché sono stato abbordato io posso confessare di fare salvaging ma no io dico che non lo so indi dice che non ha idea del perché è stato abbordato conferma che indi sta facendo del salvage illegale che cacchio 15.000 di multa paga educatamente gli dico che ho un minuto di lasciarmi un minuto per pensare adesso prendo il coltello in mano si si può fare si possono fare tante cose anche in base a quelli che i tratti che abbiamo scoperto suoi e i tratti nostri perché alcune azioni vedete che andando a scegliere col mouse ci dice quali effetti su quale tipo di personalità funziona quindi diventa molto tattico ma io voglio colpirlo col coltello stab indi mist l'ho mancato ancora indi graffia il braccio inferiore destra no la la parte bassa della gamba destra che sono basso sono alto 50 cm non so faccio uno slash ancora e out of range perché poi potrebbe comparire anche il tratto che sanguinante out of range e faccio lo stab l'ho mancato e lui mi sta per sparare e non avevo i soldi per pagare comunque out of range ma scusami ma non puoi adesso io mi seleziono e vado qui quindi vai lì ok adesso colpiscilo auto range auto range sono esausto lui sta sanguinando però allora indi l'acera il braccio la parte alta del braccio destro base è la domanda di arrendersi da indi cioè chi è che si demand surrender from indi e sta chiedendo di arrendere offer surrender e quindi accetto la sua resa e quindi non so come gestirma ok sì ma sto per morire anch'io secondo me non so cosa sto facendo ma potrei andarmene e me lo porto via con me e mi sgancio dalla sua nave e me lo sto portando via niente l'abbiamo andata un po' in bacca però volevo vedere cosa succedeva si sono riagganciati di nuovo no non si sono riagganciati però il poliziotto qui vedete ho fatto un po' un po' di casino però è giusto per farvi capire che poi tutte le meccaniche di combattimento di dialogo vanno ulteriormente approfondite di quanto più di quanto ho fatto però ecco il gioco a livello generale è questo vi permette poi di costruire di riparare di guidare la vostra nave non c'è solo questo pannello qui di di gestione della nave ma ce ne sono tanti altri tanti che non abbiamo visto tanti quanto il panne tipo questo questo è un altro ancora col transponder che possiamo attivare e disattivare dalla stazione principale però insomma ecco volevo farvi un pochino vedere questo gioco standouts per farvi capire che ci sono giochi che io che a me piacciono tantissimo e che sono veramente complicati ma quando un gioco secondo me vi dà la voglia di dire ok ho imparato una cosa nuova ricominciamo da capo poi non sono necessariamente giochi che hanno una fine una storia o cose varie insomma sarebbe bello averlo anche in italiano un domani ma sarà assolutamente improbabile è un gioco di quelli che potrei affiancare a Kenshi come complessità e niente ovviamente questo è il secondo e sarà l'ultimo video su Ostranouts tre anni di sviluppo fanno patch regolarissime molto spesso fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti